Oggi per l'appuntamento di sicurezza sul lavoro in ambito agricolo parleremo di uno strumento che l'agricoltore adopera per la maggior parte del tempo che lui dedica al campo, ovvero il trattore. Io sono seduto su uno degli ultimi ritrovati della tecnologia, un mezzo che ha tutte le norme di sicurezza, ma il trattore rappresenta oltre allo strumento principale per coadiuvare l'agricoltore nella sua opera, anche uno degli strumenti e delle cause di incidente maggiore sul lavoro da parte dell'agricoltore, le cronache ne sono piene. Allora noi oggi con l'aiuto di un esperto capiremo quali sono le dotazioni di sicurezza che un moderno trattore deve avere e quali sono le cose da non fare in ambito sempre di sicurezza sul lavoro. L'agricoltore adopera il trattore come mezzo principale, tra i mezzi principali per rispettare la sua attività nei campi e da sempre rappresenta forse uno degli strumenti di lavoro che causano il maggior numero di infortuni sul lavoro. Allora alle nostre spalle ne abbiamo uno modernissimo con le ultime dotazioni di sicurezza, però non tutti gli agricoltori sono dotati di mezzi così moderni. Allora adesso vogliamo inquadrare un po' quali sono le normative e quali sono i dispositivi di cui un moderno e sicuro trattore deve essere dotato per far sì che l'attività lavorativa sia fatta, sia espletata in massima sicurezza. Allora abbiamo qui accanto a noi Lorenzo Cecchini che è un agronomo che ci spiegherà, ci aiuterà a capire quali sono le dotazioni di sicurezza che sono importanti, quali sono le loro funzioni e che cosa ci deve essere e che cosa non ci deve essere. Allora ho detto che alle nostre spalle ne abbiamo uno modernissimo, ma quali sono le dotazioni standard, cioè che cosa deve necessariamente avere un trattore per essere sicuro e a norma? Allora buongiorno innanzitutto, i trattori per essere a norma devono avere diversi dispositivi di protezione e di sicurezza. Innanzitutto devono avere un dispositivo detto ROPS in caso di ribaltamento per proteggere l'operatore che è sul trattore. Devono avere un dispositivo che copra le parti in movimento e le parti che producono calore, per esempio la marmitta per evitare scottature. Per quanto riguarda le parti in movimento, come vedete sono tutte ben coperte per evitare che l'operatore in caso di manutenzione o verifica di qualsiasi cosa possa inserire dentro parti di tute o altro e possa rimanere impigliato. Tutti i trattori che vengono venduti sono venduti a norma, hanno la conformità e hanno targhette e manuali di uso e manutenzione per cui l'operatore sa che chi acquista il mezzo sa che il mezzo acquistato è a norma. Ci sono delle condizioni favorenti all'utilizzo di alcune dotazioni e altre no? Si può fare a meno di alcune dotazioni di sicurezza o necessitano tutte la loro presenza sul trattore? Assolutamente, non ci sono opzioni di serie A, di sicurezza e di serie B. Prima precedentemente ho dimenticato la cintura di sicurezza che nel sedile deve esserci comunque presente a seconda di punti d'attacco, a seconda che il trattore sia più o meno recente, quindi adesso senza andare troppo nello specifico. Però tutti i dispositivi devono essere presenti. in un trattore nuovo, il trattore nuovo esce già con tutti i dispositivi presenti. Il problema eventualmente si pone sui trattori datati, sui quali devono essere fatti gli interventi di manutenzione. Ci terrei sottolineare una cosa che magari alcuni agricoltori hanno questo dubbio, sul fatto che alcuni mezzi agricoli datati possano essere tenuti in azienda non messi a norma. In questi casi il trattore può essere tenuto in azienda non a norma, solamente se non guidato, ma utilizzato magari come presa di potenza per qualche attrezzatura collegata, posto che comunque ci deve essere sempre il copri cardano che magari dopo vedremo. Però in ogni caso, se viene utilizzato con l'operatore sopra, deve avere tutto a norma. Il problema per l'agricoltore si pone quando non ha un mezzo di recente introduzione sul mercato. Quindi si ha un mezzo datato, magari che adopera da tanto tempo, che va ancora giustamente molto bene, però non è a norma con tutte le dotazioni. Quindi chi ha trattori che appartengono a questa classe, a questa categoria, che cosa deve fare? Li deve mettere a norma comunque? Assolutamente sì, è necessario andare in officine autorizzate che possano mettere a norma il trattore. A dire il vero, l'ISPESL ha emesso delle linee guida in cui, dettagli, si può essere tagliatamente descrive come mettere a norma i trattori. E se un agricoltore ha un'officina attrezzata in azienda, potrebbe lui stesso, tramite un'autocertificazione, mettere a norma il trattore. Quali siano le aziende agricole in grado di fare una cosa del genere, poi questo rimane da vedere, anche perché le linee guida dell'ISPESL hanno delle norme tecniche ben precise, quindi richiedono delle competenze non indifferenti. Sicuramente io né lei saremo in grado di metterci la mano. Io sicuramente non sono neanche in grado di metterlo in moto, un trattore così. Quindi insomma, il fai da te, diciamo così, è possibile a patto che si sappia cosa fare e soprattutto oltre che cosa fare, come farlo. Perché poi se io metto qualcosa che rappresenta una dotazione di sicurezza su un mezzo che io adopero per lavorare, ma non la monto, non utilizzo il materiale corretto, non sono in grado di capire l'aspetto tecnico del sistema di protezione. È come se non facessi niente. Anzi, forse peggio, perché se non faccio niente so che non sono in regola. Se lo faccio male posso pensare di essere in regola e quindi lo uso tranquillamente, invece poi ho magari un problema utilizzandolo. A maggior ragione se si verifica un incidente. Quindi in caso di ispezione l'ASUR arriva e chiede la conformità dei mezzi con i quali magari è venuto un infortunio e si verifica che magari non è stato effettuato la messa in sicurezza del trattore in maniera corretta e chi l'ha fatta non in maniera corretta viene coinvolto in quanto responsabile di quell'intervento tecnico. Spesso vi capita di dover fare delle verifiche in aziende agricole e qual è l'atteggiamento dell'agricoltore o del fattore? Comprende l'importanza di questi presidi di sicurezza? ne è cosciente che ne deve fare uso o lo vede come una limitazione o come un intralcio alla sua operatività? L'agricoltura negli ultimi anni sta cambiando e sta attraversando comunque il settore anche questo una crisi economica non indifferente quindi andare a parlare all'agricoltore e dirgli di dover spendere dei soldi per modificare un ciclo lavorativo magari assodato che da anni e così non è semplice. Ci sono anche delle nuove generazioni che sono più propense verso queste argomentazioni, non è facile però se si riesce a far capire che per la sicurezza propria e dei collaboratori che lavorano nella propria azienda agricola il più delle volte gli agricoltori riescono a venire incontro e a mettere in atto gli obblighi normativi. Le norme di sicurezza di cui un trattore deve essere dotato non sono necessarie esclusivamente per la protezione degli operatori e per la loro sicurezza, sono necessarie anche in caso di compravendita di questi mezzi perché come tutte le macchine anche i trattori sono soggetti a compravendita di usato anche tra privati, non è necessario andare da un rivenditore di mezzi nuovi e dare in permuta, si possono vendere anche tra privati. Allora le norme di sicurezza devono essere un punto cardine della compravendita? Assolutamente sì, anche in questo caso non è possibile vendere una macchina non a norma, questo deve essere assolutamente chiaro, quindi il consiglio è se ci dovesse essere compravendita tra privati prima di farsi mettere a norma la macchina e poi acquistarla o altrimenti acquistare direttamente una macchina nuova. Ecco, allora facciamo un po' l'avvocato del diavolo, si può verificare il caso in cui io ho un mezzo non a norma, lei lo vuole comprare e io dico va bene te lo vendo e poi ci pensi tu a metterlo a norma, è possibile questo? No, no in ogni caso perché nell'atto di vendita c'è già il passaggio della responsabilità della macchina, poi cosa accada su quella macchina non si sa, le promesse possono essere disattese, questo lo sappiamo in ogni settore, quindi la macchina deve essere venduta a norma, quindi eventualmente l'intervento si fa prima, quindi se dobbiamo vendere fra di noi una macchina si fa l'intervento prima e poi si vende la macchina. Ecco, quindi se la macchina non è a norma, condizio sine qua non deve essere a norma nel momento in cui avviene il passaggio. Il passaggio di proprietà. Parlando degli elementi che rappresentano il massimo della pericolosità su un mezzo di questo genere, prima abbiamo parlato del tettuccio, detto in termini volgari, che rappresenta la protezione di colui che sta all'interno del mezzo, però esternamente ci sono altri punti in cui il tasso di pericolosità è ai massimi livelli, qui a fianco a noi ne abbiamo uno che rappresenta forse il top della categoria in termini di rischio, che cos'è e a che cosa serve? Allora, questo è un albero cardanico, la sua funzione è molto semplice, trasmette il moto dal motore del trattore agli organi che necessitano di movimento, che stanno posteriormente al trattore. La pericolosità di questo elemento è che gira in maniera molto elevata, quindi ha molti giri al minuto ed è per questo motivo deve essere per legge coperto, quindi in questo caso abbiamo qui una copertura con queste cuffie e qui dentro girano gli organi in movimento e un attrezzo del genere così conformato in realtà non è pericoloso. Dove sta il pericolo? Che spesso per motivi di manutenzione oppure di rottura e non sostituzione dei pezzi, come possono essere appunto le cuffie, questi organi vengono lasciati scoperti. Per legge tutti gli organi in movimento delle macchine devono essere coperti perché accidentalmente ci si possono andare mani, parti di corpo, ma semplicemente indumenti, quindi basta semplicemente pensare banalmente con un indumento, una manica di una camicia o di una giacca che può incastrarsi lì e automaticamente si viene quasi risucchiati da questa cosa che non si fermerà finché non avrà fatto dei danni anche molto seri. Infatti diciamo che gli infortuni maggiori sono proprio agli arti perché giustamente andandoci vicino può capitare essendo in movimento e se non protetto adeguatamente con queste cuffie in plastica, essere esposto il meccanismo, l'ingranaggio che vorticosamente girando può prendere dentro lacci di pantaloni, becchi di camice, insomma è quello il rischio maggiore, che il moto vorticoso dell'albero risucchi indumenti e dietro gli indumenti, ahimè purtroppo c'è l'individuo, c'è il braccio, c'è la mano e spesso questi sono gli infortuni più gravi, più nefasti per l'agricoltore. Ma un'altra cosa è importante per capire il perché è un pericolo, questa parte del mezzo necessita di una manutenzione, di un ingrassaggio, ecco perché ci si va attorno spesso con le mani. Esattamente, siccome ha un gira molto velocemente, quindi sono parti che devono essere ingrassate per favorire il moto, ci sono delle parti che vanno spesso ingrassate e gli operatori purtroppo un po' per pigrizia, un po' perché spesso i rischi vengono sottovalutati, ma questo non solo in agricoltura, in generale il problema principale della sicurezza nei luoghi di lavoro è il sottovalutare il rischio o il pericolo presente nella propria attività, quindi dicevamo per comodità, diciamo banalmente, le cuffie vengono abitualmente rimosse e l'ingrassaggio avviene e non vengono poi magari rimontate. Va detto oggettivamente che effettuare l'ingrassaggio di certe parti con le cuffie installate è oggettivamente complicato e difficile, questo è chiaro, però la sicurezza andrebbe messa al primo posto per evitare seri infortuni. E quindi la comodità e la praticità dovrebbero arrivare in un secondo momento. Vediamo che questa cuffia è a norma anche perché reca una targhetta che dà le specifiche precise perché questo sia giustamente conforme. Perché ci sono anche eventualmente, faccio una domanda così, cuffie che non sono a norma, voi trovate nelle vostre ispezioni? Allora, le cuffie che, posto che noi ovviamente come consulenti facciamo consulenza, non facciamo ispezioni, quello lo fa. Un albero cardanico per non essere a norma basta che non abbia le protezioni. Se esce senza targhette del costruttore anche lì non è a norma, ma ormai è praticamente impossibile che non esca così. Tutte le trezzature devono avere la marchettura CE, quindi molto banalmente è difficilissimo trovare una cuffia. Comunque un albero cardano non nuovo, non etichettato e non marchiato CE. Il problema, ripeto, c'è quando non abbiamo queste protezioni. Ok, quindi insomma avete capito che la sicurezza sul luogo di lavoro è importante per preservare anche la capacità lavorativa dell'individuo perché è un infortunio purtroppo sul lavoro spesso non oltre a recare danni all'individuo può recare danni all'azienda perché poi chi non è più impossibilitato a svolgere la propria attività lavorativa mette a repentaglio anche il proprio sistema economico, la propria famiglia. Anche questo è un concetto che secondo me va ribadito fermamente. Io aggiungerei una cosa che magari alcuni ignorano o sottovalutano. Nel momento in cui avviene un infortunio l'Inail generalmente paga l'infortunio ma una cosa che ripeto molti ignorano è che l'Inail può fare una rivalsa sul datore di lavoro nel dire bene il tuo dipendente collaboratore, quello che ha avuto un infortunio te lo pago ma tu datore di lavoro hai messo in atto tutte le misure per eliminare o possibilmente ridurre le probabilità che con l'infortunio avvenisse. Se tu datore di lavoro hai fatto lavorare il dipendente in condizioni non idonee o non in sicurezza, l'Inail può fare rivalsa sul datore di lavoro. Quindi anche da un punto di vista economico poi si vanno a toccare le tasche del titolare dell'azienda. Ecco quindi insomma diversi sono i risvolti per cui speriamo in questo appuntamento di avervi chiarito in parte alcuni concetti ma soprattutto di avervi fatto comprendere l'importanza che lavorare è giusto e doveroso ma soprattutto importante lavorare in sicurezza.